Col voto di oggi si dà il via libera ai negoziati su una direttiva europea sulla retribuzione lavorativa e quindi avremo finalmente la possibilità di superare quel gender gap, ossia quella differenza salariare fra uomo e donna. Ne siamo particolarmente contenti perché la correlatrice è una collega dei Greens che porterà avanti un battaglio importante, ad esempio quella di riuscire a coprire bene il 60% dei lavoratori europei in quelle aziende che saranno costrette a dichiarare i compensi, in maniera trasparente, i compensi delle proprie aziende sopra i 50 dipendenti. Nonostante le destre abbiano tentato fino alla fine di opporsi adducendo motivazioni strambe tipo che avremo tolto il potere contrattuale ai sindacati, quando sappiamo che i sindacati che lavorano per un'equità fra uomo e donna sono con noi e addirittura dicendo che le aziende avrebbero delle spese maggiori. Ma sulla parità di genere, sulla parità dei diritti uomo-donna non c'è spesa che tenga e se le aziende sono, come noi sappiamo, per la maggior parte per superare questo gender gap saranno dalla nostra parte anche negoziati con la Commissione e col Consiglio.